Allora, la Lega, e qui lo dico e chiedo agli insegnanti una volta tanto di aprire le orecchie, la Lega vota contro, la Lega vota no a questa fiducia. Non tanto perché è la fiducia, perché la fiducia a questo Governo non la daremo mai e non la voteremo mai, perché la Lega vota contro a questo provvedimento. Questo provvedimento non è altro che la vaselina che voi state dando agli studenti e ai professori italiani. Questa è la vaselina della buona scuola. Mettetela a bilancio dello Stato italiano e datela a ogni professore. Questo è quello che subiranno gli insegnanti. Prego i cartelli in aula. Senatore Zeller è iscritto a parlare per dichiarazione di voto, ne ha facoltà. Per favore, collaborate, senatori. Sono stati già ripresi i cartelli, potete collaborare. Senatore Crosio, non si faccia male, per favore. Senatore Crosio, la richiamo all'ordine. Non si faccia male.